Un'opera inutile, un'opera pericolosa, che ho dovuto fare già precedentemente è stato richiedere la sospensione dei lavori. Perché con questa sospensione dei lavori io ho chiesto di vederci chiaro rispetto alle responsabilità dei progettisti, dei RUF, di tutti coloro che avrebbero dovuto vigilare anche sulla corretta esecuzione dei lavori e che evidentemente, non lo stanno facendo, guardate già la pista ciclabile, non la utilizzate questa pista ciclabile, guardate per non parlare di quella sul ponte della libertà che finisce contro un palo della pubblica illuminazione. Allora, la misura è colma. Mi hanno detto che loro sono i tecnici e che il progetto va bene e che è il migliore progetto al mondo. E allora che queste persone si palesino, verificheranno le responsabilità civili, penali e amministrative di chi ha permesso questo scegliere e sicuramente non pagherà la città, ma pagherà qualcun'altro. Come si può fare una schisezza del genere?